Tania Cagnotto, Francesca Dallapè, doppio salto mortale in mezzo, ritornato, carchiato. Conta? Sì. Uno, due, tre. Conta? Sì. Grande, grande. Arriva, arriva la medaglia. Sì. Sì, 80, 80. Sì, c'è la medaglia. Nel corso della mia carriera ho capito che ciò che conta di più sono gli allenamenti, la voglia di far sacrifici, la determinazione e la pazienza. Solo così si arriva in alto. Esattamente come oggi siamo arrivati in alto tutti noi. È un orgoglio poter accogliere nella nostra regione un'eccellenza italiana come quella che i centri clinici NEMO rappresentano. Assistenza e cura della persona, dove la parola d'ordine è coraggio. Forza, NEMO Trento! Nella vita a volte si danno per scontate molte cose. Quando si raggiunge un risultato importante, succede che ci si dimentica di tutto il lavoro che c'è dietro. Determinazione, costanza e impegno. NEMO Trento è tutto questo. È un sogno che si realizza, fatto da un lavoro di squadra, di persone che con entusiasmo si sono tuffate in questo impegno, con la voglia di crescere e realizzare qualcosa di davvero importante. NEMO è un oro per la nostra città ed io sono felice ed orgogliosa di essere qui anche virtualmente ad abbracciarvi tutti. Benvenuto NEMO Trento!